Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo. Nella giornata di domenica 30 luglio, tempo buono sia pure con la consueta instabilità pomeridiana. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto nelle prime ore della giornata si prospettano condizioni invariabili con qualche residuo piovasco. Seguirà un rapido miglioramento già in mattinata, come ci mostra la grafica, ancora temporali, verso sera sui rilievi. Temperature stazionarie minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo rovesci sparsi localmente abbondanti e discontinui sulle zone costiere e maggiori spazi asciutti e soleggiati. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto variabile con alcuni temporali, specie sui settori settentrionali, alternati a schiarite. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.